Salve, sono Gianfranco Labate e ho appena concluso il Master in Gestione delle Risorse Umane. Questo Master mi ha dato tanto, soprattutto a livello relazionale, non soltanto con i miei colleghi, ma anche con gli stessi docenti che si sono sempre dimostrati disponibili e attenti a qualsiasi nostra esigenza. Il Master mi ha fornito non soltanto degli importanti punti riflessivi personali, ma anche numerose competenze e numerose attitudini che non credevo di possedere. Tutto questo materiale, questo bagaglio che porterò con me nella mia realtà sicuramente sarà utile nel mio sviluppo professionale e anche nel mio sviluppo come persona. Auguro a tutti di affrontare un percorso formativo come questo e riuscire ad avere esperienze positive come quella che ho visto io.